Viene da pensare però anche ai medici cattolici che possono trovarsi in difficoltà in determinate situazioni. Quindi in che contesto si muovono, in che contesto normativo? Infatti noi parliamo, secondo me, con appropriatezza di due libertà che si confrontano. La libertà del paziente e la libertà professionale del medico. Tenendo conto però che sono due libertà che non si pongono nello stesso piano perché il medico comunque agisce sul corpo del malato. Quindi la libertà del medico, oltre che di proporre le terapie nelle quali crede, possibilmente che siano quelle adeguate alla cura della malattia, consiste anche nella possibilità di frapporre l'obiezione di coscienza, cioè di rifiutare evidentemente di eseguire un trattamento che non crede, o anche in cui non crede, o anche in ipotesi per un medico cattolico interrompere una vita attraverso il distacco di un macchinario, come nel caso Welby, che è un macchinario che tiene in vita un soggetto. O come, per esempio, se mai si dovesse arrivare a quest'esito, il distacco del sondino per Eluana. Il rispetto quindi è dovuto, sempre che però ci sia una regolamentazione, per evitare che poi il malato non trovi nessuno all'interno di una struttura ospedaliera che possa accogliere la sua domanda. Quindi è importante regolamentare anche l'obiezione che va, però, l'obiezione di coscienza, riconosciuta perché è un principio, possiamo dire, immanente e generale all'interno della più ampia libertà di religione sancita dalla nostra Costituzione. Per concludere, quale può essere l'atteggiamento e la strada migliore per andare verso un quadro normativo, ma anche un quadro culturale, che sia il più inclusivo possibile della libertà di espressione, di pratica, del proprio credo e della propria libertà di scelta nella cura? Ci sono oggi in Parlamento numerosi progetti di legge. Io stesso, anni fa, sono stato ascoltato in Senato dalla Commissione Igiene e Sanità su progetti che riguardavano il testamento biologico. La mia opinione è che bisognerebbe evitare i fondamentalismi, in un senso e nell'altro. Cercare di creare una normativa che sia flessibile, aperta, che possa sancire il diritto di scelta del paziente, sempre che questo diritto, ovviamente, non comporti un danno all'esterno per i terzi. Ma quando si tratta di accettare o rifiutare anticipatamente un trattamento che riguarda il singolo, evidentemente la scelta non potrà che ricadere la scelta del trattamento sul singolo. Riconoscere al medico la possibilità di obiettare e cercare di rendere queste direttive quanto più cogenti possibili, perché altrimenti potremmo arrivare all'assurdità di fare una normativa così generica che poi alla fine venga bypassata nella quotidianità dell'esercizio professionale, come in realtà accade oggi anche con la tematica del consenso informato. Perché mi piace chiudere dicendo che oggi il consenso informato è diventata una pratica burocratica, che si attua attraverso la sottoscrizione di moduli. Di moduli, spesso incomprensibili, ma la modulistica che ha invaso un aspetto. Ma spesso la modulistica è idonea a dimostrare che c'è stato un consenso, ma non si sa su quale informazione. Recentemente la Cassazione ha affermato che una modulistica generica non rende valido il consenso. O troppo complessa, o troppo complicata. Allora io direi che è opportuno arrivare anche a una modulistica di carattere probatorio successivo, ma che sia l'esito di un processo che coinvolga le persone e che testimoni questo processo, non una modulistica che sostituisce tutta la procedura. Non si può pensare a un'unificazione della modulistica, cioè decidere una tipologia di modulo di consenso informato per quel determinato trattamento a livello nazionale che venga deciso da una commissione. La modulistica iniziale può essere una modulistica informativa sullo stato dell'arte, su che cos'è quella malattia, sulle possibilità di cura, sui effetti collaterali. Ma poi c'è la individualità del soggetto balato e del medico che si incontrano e che devono cercare di approfondire alcuni temi. E quindi poi nasce il colloquio, dove c'è uno scambio di informazioni. C'è bisogno di accoglienza reciproca. E poi in più delle volte si arriva realmente a quella che si chiama la compliance e quindi a una decisione clinica condivisa. Ma può capitare, faccio un esempio che traggo da un documento del 92 del Comitato Nazionale Bioetica sull'informazione del consenso, può capitare che sebbene io mi renda conto che quel tipo di intervento è un intervento che mi può aiutare a superare la malattia, io non l'accetto perché mi può avere delle conseguenze inaccettabili. Il Comitato Nazionale Bioetica in quel documento fa l'esempio di un pianista che deve subire un intervento dimoditivo al cervello, dove ha purtroppo una forma di ideoplasia che va eliminata. Le conseguenze di questo intervento sono che lui non potrà più suonare. Allora può essere compensibile che questo oggetto preferisca andare verso la morte piuttosto che affrontare una vita senza musica. Una cura meno efficace, meno incisiva, ma che gli consenta di trascorrere la parte finale della propria malattia continuando a coltivare quell'amore per l'arte del pianoforte che per lui è una connotazione importante dell'esistenza.